Ebbene sì, iniziamo a parlare proprio del nostro fegato, questo organo fondamentale, anzi è la ghiandola più grande del nostro corpo umano, definito un po' lo spazzino, lo trattiamo male, però oggi grazie ai consigli del professore Emanuele Rigninella, benvenuto, professore, ricordo medico nutrizionista dell'unità di nutrizione clinica della Fondazione Polichinio Gemelli di Roma. Allora, bentornato innanzitutto. Grazie. Allora, noi lo trattiamo male. No. Trattiamo molto male il nostro fegato, ce lo dimentichiamo, ecco, diciamo così. Ebbene, però quando inizia ad ammalarsi, forse ci sono alcuni sintomi se ci arriviamo addirittura a sentire qualcosa che ci trasmette il nostro fegato, però si può ammalare e diventare il fegato grasso. Sono molti gli italiani che purtroppo hanno questa patologia, ma che cos'è esattamente il fegato grasso, professore? Allora, intanto il fegato, come diceva lei stessa, è un organo cruciale per il nostro organismo perché riceve, immagazzina, rilascia nutrienti ogni giorno. Questo lo fa in maniera ciclica durante i pasti, ma al contempo detossifica tutta una serie di metaboliti che provengono dalla digestione, perché ricordiamo è all'interfaccia tra l'intestino e il resto del corpo, per cui arrivano ogni giorno sostanze tossiche, prodotti batterici, gli stessi farmaci, l'alcol. Quindi possiamo dire che da una parte è la centrale energetica, dall'altra è il depuratore del nostro organismo. Il problema è che spesso, come diceva prima lei, lo trattiamo male. Trattiamo male perché abbiamo degli stili di vita alterati, sedentarietà, ci nutriamo di cibi che non sono funzionali alla nostra salute e piano piano il fegato comincia a ingrassarsi, cioè a riempirsi di goccioline di grasso all'interno degli epatociti, delle cellule del fegato e che quindi cominciano a funzionare male, non solo, ma si ossidano, cioè si infiammano. Ora, la storia naturale della patologia dura anni, quindi all'inizio possiamo non accorgerci di questa condizione, però inevitabilmente si può arrivare a due conclusioni, o cominciamo a cambiare stile di vita, stile alimentare e quindi il fegato può ritornare perfettamente nella norma come prima, è stato dimostrato questo, oppure si va incontro alla fibrosi. La fibrosi è la cicatrizzazione del tessuto epatico sano che porta poi piano piano all'evoluzione in cirrosi e questa è un'evoluzione poi definitiva. Professore, però c'è qualche spia in qualche maniera, perché noi appunto i sintomi magari non ci dà alcun sintomo il fegato grasso, oppure quando ce li dà significa che siamo in una condizione grave, però qualche spia di qualche altra malattia collegata al fegato grasso, magari facendo alcuni esami, perché comunque è coinvolto anche in tante funzioni metaboliche il nostro fegato. Parola magica, è proprio questo il punto, mentre fino a qualche anno fa, 10-15 anni fa, le principali cause di disfunzione epatiche erano l'epatite B, l'epatite C, l'alcol. Adesso fortunatamente con l'avvento delle nuove terapie, l'epatite C e B sono controllabili e con una maggiore consapevolezza si riduce anche il consumo di alcol. La maggiore causa di fegato cirrotico ad oggi è proprio la patologia metabolica, cioè quella che si accompagna anche ad altre componenti della cosiddetta sindrome metabolica, lo vediamo nella figura, l'ipergliceridemia, quindi i trigliceridi alti, l'iperglicemia, quindi il rischio di diabete, il ridotto colesterolo buono, l'ipertensione e l'obesità che racchiude un po' tutte queste componenti. Allora il problema non è tanto e solo il fegato, che certo si ammala, ma anche tutto l'organismo che viene insieme al fegato ad essere danneggiate, quindi maggior rischio di diabete, di patologie cardiovascolari, di patologie cerebrovascolari, di insufficienza renale e anche di tumori. Il fegato quindi diventa una spia, quando vediamo per esempio i valori del fegato, le transaminasi o le gamma gt alterati, per andare ad allargare lo spettro e cercare qualche altra patologia che può essere curata preventivamente prima che diventi troppo tardi. Curata preventivamente attraverso una sana alimentazione, perché il professore ce l'ha detto, gli stili di vita devono essere cambiati. Allora noi vogliamo prevenire, nel senso che vogliamo anticipare che possa succedere una cosa del genere e dobbiamo essere consapevoli di ciò che mangiamo. E allora come facciamo? Qual è la strada giusta, l'alimentazione più corretta? Bisogna dire intanto che la riduzione del peso è fondamentale per ritornare ad una condizione di fegato sano. È stato dimostrato che la riduzione del 10% del peso corporeo in un individuo con fegato grasso fa regredire la steatosi, termine tecnico per fegato grasso. Quindi questa è la buona notizia. Chiaramente tutto ciò non avviene in un giorno, in una settimana o in un mese. Non basta fare la dieta di tre mesi per avere il fegato sano, quindi bisogna decidersi a condurre uno stile di vita sano, il che vuol dire adeguata alimentazione e attività fisica. E chiaramente poi nel momento in cui c'è una disfunzione epatica farsi anche seguire dall'epatologo o dal clinico in generale, dal clinico medico. I principi sono quelli dell'alimentazione mediterranea. Allora lei come medico nutrizionista ci deve guidare in questa alimentazione sana e consapevole. Iniziamo subito a capire allora quali sono gli alimenti per avere un fegato in forma, sano e senza problemi di fegato grasso. Esatto, intanto dobbiamo ispirarci, dicevo prima, ai principi dell'alimentazione della dieta mediterranea che spesso come italiani, diciamoci la verità, abbiamo perso. E quindi ricordiamo il valore dei cereali integrali, quelli a basso indice glicemico, ricordiamo il valore di frutta ma soprattutto di verdura che è ricca di fibre e la fibra nutre il nostro microbiota intestinale. Questo non fa altro che migliorare per così dire la composizione dei batteri intestinali e quindi migliorare anche l'effetto barriera dell'intestino. Ricordiamo che l'effetto barriera dell'intestino è l'ultima frontiera prima del fegato. Quindi se noi miglioriamo la barriera intestinale attraverso il consumo di frutta e di verdura soprattutto miglioriamo anche la funzione epatica, lo lasciamo lavorare bene. E poi lo vediamo qui, i legumi, fonte di proteini vegetali, il pesce, la carne magra, l'olio d'oliva che contiene polifenoli antiossidanti. E poi in questa parte vediamo tutta una serie di alimenti nocivi al fegato che sono per la maggior parte composti da nutrienti processati. E parleremo anche degli alimenti super processati, iper processati che noi magari troviamo quando andiamo a fare la spesa al supermercato, lei ci deve dare delle indicazioni, cosa esattamente comprare, però nella lista che abbiamo appena letto in grafico c'è un ortaggio che è di stagione, buonissimo, e beh il carciofo, oltre ad essere buono perché noi lo dobbiamo consumare? Perché davvero fa così tanto bene il nostro fegato? Nella tradizione popolare il carciofo fa bene al fegato, in realtà il benessere che il carciofo apporta al fegato è legato più all'effetto coleretico, cioè alla produzione di bile e di conseguenza la contrazione della colecisti, quindi un effetto digestivo, il carciofo dovrebbe aiutare anche la colecisti a funzionare meglio perché in qualche modo la stimola a svuotarsi. Il carciofo però è un alimento anche ipocalorico e ricco di fibra, in particolare di inulina. L'inulina, come dicevo prima, è una fibra che nutre i batteri buoni del nostro intestino a produrre dei metaboliti, cioè dei prodotti di degradazione della fibra, tra quali il butirrato, si chiamano acidi grassi a catena corta, che il nostro intestino utilizza per migliorare l'effetto barriera intestinale, cioè migliora la proliferazione buona delle cellule intestinali e la produzione di buco. Tutto ciò contribuisce all'effetto barriera dell'intestino. Poi il carciofo è ricco anche di calcio, di magnesio, di fosforo, di potassio, micronutrienti utili per il metabolismo e contiene delle sostanze particolari, peculiari, in particolare la cinarina, la silimarina, la luteina, la zeaxantina, che sono dei potenti antiossidanti. Insomma, dobbiamo mangiare carciofi, soprattutto quando sono di stagione, come in questo periodo. Allora, però io inizierai a rispondere a un po' di domande. Il professore Davide ci scrive da Venezia e ci chiede, ho letto che mangiare qualche volta il fritto non fa male al fegato, anzi, è così? Sì, diciamo che nelle persone sane l'assunzione periodica, occasionale di fritti non costituisce un problema, però dobbiamo stare attenti a due cose. Intanto alla frequenza e alla quantità, quindi mangiare fritti occasionalmente, nelle feste, in compagnia, è poco, non è un problema, anzi, i grassi contenuti nel fritto possono facilitare la funzione digestiva. Il punto è che dobbiamo stare attenti alla frequenza e anche alla qualità dell'olio, quindi preferire olio d'oliva o al massimo di semi di girasole. Questo è importante, anche il fritto, vabbè, è concesso, però, insomma, facciamo attenzione quante volte mangiamo il fritto. Allora, oltre al fritto che deve essere mangiato con moderazione, ci sono altri alimenti, anzi, noi siamo ricchi purtroppo di alimenti iperprocessati e quando andiamo al supermercato, vuoi perché magari andiamo quando siamo affamati, per cui facciamo spese, mettiamo all'interno del nostro carrello, alimenti ricchi di, non tanto di nutrienti, ma insomma di, come dire, junk food che non mettiamo all'interno. Esatto, cibo spazzatura. E questo, cibo spazzatura. Allora, quali sono i cibi un po' da limitare? Non diciamo vietare perché è brutta come verbo. Noi, diciamo dovremmo limitare o vietare i cibi ultraprocessati. Oramai è in dubbio la relazione tra assunzione di cibi ultraprocessati e patologie metaboliche, al di là del fegato, anche patologie infiammatorie. E quindi tutti quegli alimenti in cui l'alimento principale, l'alimento che mangiamo, si discosta da quello originario. Principalmente questi alimenti sono caratterizzati da additivi alimentari, da un eccesso di zucchero, in particolare fruttosio, e anche da un eccesso di sale. Quindi insieme agli alimenti ultraprocessati dovremmo stare attenti a tutti quegli alimenti ricchi di zucchero, di fruttosio, per esempio le merendine, diciamo tutti i prodotti confezionati, in particolare di fruttosio che è uno zucchero altamente infiammatorio per il fegato, e poi i grassi saturi contenuti principalmente nella carne rossa e nei formaggi, diciamo, stagionali. Cioè, limitati ma non... Questi limitati, i prodotti ultraprocessati quasi vietati. Ok, vietati soprattutto per chi soffre. Soprattutto per chi soffre di fegato grasso. Grazie, grazie al dottor Emanuele Rigninella, grazie davvero per aver citato questi consigli.